Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dove potete trovare idee per ricette altiveloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Qualche giorno fa mi è arrivata questa bellissima bilancia digitale. La volevo da tanto tempo e infatti l'ho subito provata. Vi faccio vedere come funziona e a me piace tanto, anche perché in questo modo riesco a tenere monitorati tutti i progressi e tutti gli indici che vi farò vedere tra un po'. La bilancia è della Sinocare, in descrizione trovate il link per accedere, è un super sconto per voi. Il sito è lo stesso di quello della bilancina pesa alimenti che calcola i macros e le calorie direttamente mentre pesate gli ingredienti di una ricetta. È una bilancia digitale ma è una bilancia anche intelligente perché appunto si collega con il cellulare e tramite l'app vi tiene monitorato tutti questi fattori che sono, oltre al vostro peso, vi terrà monitorato il grasso corporeo, l'indice BMI, la vostra muscolatura, la percentuale di acqua corporea, la salute delle ossa, il grasso viscerale, l'età del vostro corpo e il metabolismo basale. Nella confezione troverete già le batterie per la bilancia e in più troverete il manuale, però è molto semplice, anche senza l'utilizzo del manuale, se ci sono riuscita io a collegare l'app col cellulare con la bilancia ci riesce chiunque. Ora vi faccio vedere come funziona. Innanzitutto bisogna scaricare da Play Store l'app OKOK International. Poi bisogna registrarsi all'app e accoppiare il cellulare con la bilancia attraverso il Bluetooth, possibile anche accoppiare più di un dispositivo. Per iniziare le misurazioni bisogna premere su questo pulsante con l'app e salire sulla bilancia. Basta restare sulla bilancia per qualche secondo fin quando sull'app non appare la vostra schermata. Dopodiché potete scendere perché già tutti i dati verranno memorizzati sul vostro cellulare. Il primo parametro indicato è l'indice di massa corporea e viene calcolato in media secondo il vostro peso e la vostra altezza. L'altro parametro è la percentuale di massa grassa. Indica la totalità dei grassi del nostro corpo sia negli organi vitali sia come tessuto adiposo. Gli altri parametri presi in considerazione sono la percentuale di massa muscolare e la percentuale di acqua corporea. Questi due fattori sono anche molto correlati tra loro perché i muscoli sono formati da una grandissima percentuale di acqua. Ci viene calcolato anche il grasso viscerale che sarebbe il grasso cattivo depositato sugli organi, la densità ossea del nostro sistema scheletrico e il nostro metabolismo basale, cioè il tasso di calorie che bruciamo a riposo. La misurazione delle proteine sarebbe la percentuale di proteine presenti nel nostro corpo. Poi ci viene indicato il nostro grado in percentuale di obesità, poi l'età corporea che è un calcolo secondo tutti i parametri visti finora per indicare la nostra condizione fisica e infine il peso senza il grasso. Tutti i parametri dei vostri valori vi verranno salvati nella cartella storia che potete consultare giorno dopo giorno, mentre nella cartella tendenze avrete i grafici singolarmente per ogni parametro misurato. Io spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!